Hai fatto diete, ti sei iscritta in palestra, hai provato tante, tante, tante cose e non sei riuscito a arrivare alla metà. Non sei riuscita a perdere peso, non sei riuscita a perdere i centimetri e poi torni a casa e ti biasimi, giusto? Vieni da me, nowgcuper.com non è una palestra, non è soltanto un movimento, no. Ci sono ricette light, webinar, 16 live al mese, face gym, allenamenti e forum che aiutano le persone a cambiare qui. Per cui cambiare qui è tutto insieme perché nowgcuper.com non è una palestra semplice, è molto molto di più di aspetto.